Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi vi voglio far vedere il difetto di questo volano, di questo Caravelle T5 turbodiesel, che può succedere comunque anche su altre vetture, che sia una Audi, Volkswagen o BMW, comunque un difetto che viene sul volano quando si usura il boccola centrale, il cuscinetto centrale, dove c'è la rotazione. Vedete? Partito il cuscinetto centrale, è già uscito anche la lamiera, quindi quando voi avete la macchina al minimo, che sentite il motore che saltella o dei rumori strani che provengono dall'interno del cambio, il difetto 99 su 100 è quello. Il problema grosso qual è? È che comunque lui avendo questa vibrazione usura molto precocemente il disco della frizione, infatti se vedete qua c'è già tutta la polvere sopra, perché praticamente facendo questa vibrazione molto veloce, si usura il disco della frizione, l'albero del cambio sicuramente non è contento, quindi bisogna andare a mettere un volano nuovo. Quindi andiamo a mettere un volano nuovo, qua abbiamo anche il disco della frizione, Vedete che? Disco frizione, spingi disco, è un look, originale monta al look, noi montiamo il look, così è tutto uguale, identico. Andiamo a montare il volano nuovo, rimontiamo sul cambio e la lavorazione risulterà di nuovo perfetta. Per info preventivi per questa lavorazione o su queste o su altri veicoli, noi lo facciamo su tutti i veicoli ovviamente, ci chiamate al numero 0141 96 92 14 o un'email a infochiocciolabiancoauto.it o un whatsapp al 345 060 86 80 e ricordatevi che se avete la necessità di avere l'auto istitutiva noi ve la diamo ad uso gratuito. Ciao a tutti, alla prossima!